fuori dalle zone, dalla zona di Stato. È stato un anno molto intenso, direttore, questo, di così tante soddisfazioni, quindi, con il personale in corso fino adesso, il personaggio di serie altre è tanto importante che vi ha visto i protagonisti, ma soprattutto ha visto anche il supporto dei tifosi che stanno continuando, darò una dimostrazione sempre importante, di amore. Io li vedo anche proprio, rivedendosi a loro, a tutti i fosi giornorossi, ma anche a tanti che vi seguono in tutte le parti d'Italia e non solo. Ah, è detto bene, è stato l'inizio, una stagione di ritorno in serie A, intensa, ma anche con tanto indice di difficoltà, perché quando si arriva da matricola in serie A tutto è più difficile, nei confronti delle altre squadre che già ci sono in serie A. In più noi, ci siamo arrivati con tanto Premonese e Monza, che abbiamo visto non hanno resinato nessun sforzo per poter essere competitivi, quanto lo erano le squadre che già da anni ci sono in serie A. e quindi ci ha visto impegnati in maniera continuativa per poter cercare attraverso il lavoro di poter sofferire quelle che potevano essere magari qualche discussione che avevamo nei confronti degli altri club. quindi questo è la cosa che più ci ha impegnato, cercare con il lavoro, con la passione, con l'impegno e con le idee di poter essere competitivi come le altre squadre che lottano per loro. in questo momento ti ricordi particolarmente tra i canti magari anche un'immagine che le è ancora impressa nella memoria? Quale è l'immagine? l'immagine più importante dopo che sono ritornato che era quella che anche se anticipatamente siamo riusciti a raggiungere perché avevamo l'obiettivo di tornare in serie A siamo ritornati anticipatamente quindi l'immagine più importante è quella di aver visto lo stadio strapieno la sera della nostra vittoria del campionato e del ritorno in serie A quindi quella è l'immagine che mi porterò sempre dentro perché vedere la propria gente felice è la cosa che per un salentino come sono io è la cosa che più mi infini possa rimanere impressa e a me lo è rimasto. Io so che non le chiedo del mercato perché lei è sempre molto preciso non abbiamo neanche illusioni però so che lei è il lavoro questo è innegabile è un lavoro che state facendo importante o un lavoro tiepido? Che cosa ti chiede in questo momento? No, i lavori non c'è lavori tiepidi lavori importanti, il lavoro è il lavoro di per sé in quanto lavoro il lavoro è porta o vuole portare a rivedere quella scena che come ti ho detto prima mi è rimasta impressa per la promozione il lavoro nostro della società di chi mi sta vicino è mio e quello di rivedere un'altra scena di essere rimasti ancora in Serie A con uno stadio di nuovo strapieno non soddisfatta però vedere dei nomi importanti che avete fatto è segno anche che i giocatori insomma